signore e signore buonasera che mi parla è Claudio Sattarelli e siamo in altra tre di lavoro come il nostro solito e siamo di martedì e il martedì voi sapete che parliamo sempre di arte identitaria, musica identitaria, teatro identitario con artisti identitari che noi chiamiamo napolitani o se viene al di là del faro siciliani ma questa sera parleremo con un artista che si può dire attore, si può dire musicante, si può dire musicista, si può dire cantante, si può dire tutto e a 360 gradi e soprattutto è di grandissimo spessore perché perché chiunque ho sentito parlare, chiunque mi ha parlato di questo personaggio ce ne fosse stato uno che ha detto una parola brutta, cattiva, voi sapete che tra il mondo degli artisti c'è sempre il repertorio del capere è assai vasto però quando si parla di questo personaggio nessuno mi ha detto una mezza parola, ho sentito solo parlare bene ma come il nostro solito lo anticipiamo con un breve video grazie a tutti Grazie a tutti. 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 un piccolo canto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. siamo riuscito. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. all'Alfa. Grazie a tutti. ti fermi. studiamo un po' e poi, poter conoscere, del treno, e a tutti. e a tutti. per vent'anni. era una trasmissione, un attore, un attore. e quindi, simile, uno comprende, uno comprende, e il mio zio, che sono diventer, e poi, perché è un attore, un attore, un attore, un attore. c'è molto provincialismo eh sì 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 d'altra parte una cosa ma poi perché di solito stavi vicino a Napoli capitale della musica invece Roma e perché Roma e non Napoli ma perché a Roma c'era l'affaccio più verso il teatro perché un'altra delle mie grandi passioni era questa ah poi ne parliamo un attimo esattamente ma a Napoli c'è teatro e musica eh sì sì a Napoli c'era tutto io frequentavo moltissimo però eh a Roma c'erano dei grandi nomi eh del teatro della danza del mimo perché io ho cominciato studiando mimo facendo proprio la pantomima e quindi quando uno sente parlare di Roy Bosier di Katie Duck di Marcel Marceau a Napoli Marcel Marceau era arrivato raramente a Roma ma tu sai ma tu sai che è difficile portare a un posto qualcosa dove nasce il mimo nasce a Napoli eh lo so a Napoli quindi loro non se ne fottano cioè il mimo dove dove ci sono tre espressi tre mimi straordinari che possono essere Totò Edoardo e Massimo Troisi cioè quelle che prime vengono in me il mimo nasce a Napoli quindi addirittura io c'ho un libro di di Antonio aspetta Frisard de Iorio che scrisse proprio in portato sui mimi io ce l'ho quel libro che me lo dite ma che me l'ha fatto conoscere Scafoglio e andammo arriva distaccato perché lì tutto nasce sì sì ma andiamo andiamo indietro proprio di millenni e quindi tu sai che dalle adellane sì alle farse cavaiole quindi sì il teatro drammatico nasce in Grecia ma la satira nasce a Napoli con le adellane eccetera 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 esattamente però quindi la maschera era una mi attraeva sempre tant'è vero che io partì poi per andare a fare un provino eh in un posto che si chiamava il convento occupato a Roma e che era un convento francescano che era è stato occupato eh agli inizi negli anni 70 da artisti musicisti attori dice possiamo dire che in quel convento è nato è nata la musica prog è nato il banco del mutuo soccorso è nata a buona parte la pfm dove esce della medaglia biglietto per l'inferno e tantissimi altri musicisti ma tu c'hai ma tu c'hai una faccia che una maschera ma tu sei tu sei figlio della capitale sei figlio della terra quindi più che andare a prendere secondo me hai portato molto andando in giro hai portato quello che ho portato sì sì quello che è la tua identità e entità e quindi produco quindi anni 70 hai vissuto l'epoca del Napoli centrale e Piero Daniele sono entrati anche loro nella tua vita sì sì assolutamente tra l'altro eh in quegli anni eh io facevo spesso anche assistenza a montaggio ai palchi nei festival dell'unità nei festival quando ci fu il famoso festival eh nazionale dell'unità a campi fegrei con dove ci furono i grandi in Killimani la compagnia di canto volare Napoli centrale Edoardo Bennate Eugenio Bennato ma soprattutto Lucio Dalla e tanti altri musicisti noi eravamo un gruppo di squadra che montavamo i palchi facevamo l'assistenza perché venivamo dal eh però facendo faticatore eh il montatore guardavi ascoltavi e rubavi con gli occhi ma ma sono pure Pino Daniele in quel famoso concerto Pino Daniele suonava il basso perché il bassista quella volta non c'era però poi apri con un altro concerto che ho visto dove Pino Daniele insieme al Rosario Germano aprivano il concerto di Napoli centrale sì l'hanno fatto e poi anche perché poi James Senese dice sempre che lui eh arrivavo Pino Daniele che a inizio se ne avevo bassa ma dopo nove mesi che lui dopo quasi un anno che suonava cuisse poi furono loro che andavano a suonare per lui sì ma sì era un grande chitarrista Pino a parte un grande autore cantante cioè un genio assoluto credo beh è entrato nella nella classifica i dieci chitarristi più importanti al mondo andò in America se ti ricordi sì 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 ma è un genio assoluto anche se poi io distingo Pino Daniele a Giuseppe Daniele perché fino a Bellambriana che era Pino Daniele che stava a Napoli è una cosa poi dopo via Napoli e verso Giuseppe Daniele tra l'altro poi è andato a Formia eh che è stato tanti anni a Formia però la l'ispirazione io poi conosco benissimo cioè come per esempio Enzo Cragno Agnello, Carlo Faieto tutta gente che trova ispirazione nella loro città ma è fondamentale questo infatti lui andò via da Napoli rimase un grande però quei cinque anni quei cinque l'epidio che poi aveva dei musicisti straordinari non li ha più ricordi esattamente sì sì Bellambriana è ancora è ancora un bel disco ma per me il diciamo Pino Daniele con l'epoca finisce a nera a metà poi ne comincia un'altra beh sai nera a metà pure Paimo eh attenzione Paimo sì ma un altro un altro bellissimo disco eh era musicante sì però già ma lui fece a Formia già era andato via da Napoli sì sì lo so lo so però i primi cinque vabbè ma lì aveva dei musicisti straordinari insieme c'era tutto perché terra mia è anche un terra mia anche un lp di musica popolare certo assolutamente ci sono delle cose e beh ma fortunato è una roba bella ma a cadastro delle caffè a parte ci sanno che calore per esempio tutti tutti chiudiamo questa parentesi tutti fanno di Napoli ma a me io adoro terra mia terra mia eh il numero per me la cosa è più bella eh solo a parlarne proprio guarda lasciamo comunque questa parentesi e comunque per inciso ci tengo a dire come dico mi sparo una posa come si dice ho ancora una cassetta eh una cassetta c90 con un concerto registrato che si sente malissimo con un vecchio registratore della Philips di Vino Daniere Rosario Germano e dopo Napoli Centrale e nel in un festival che fecero del 78 a Villa Panfili a Roma che era il festival jazz praticamente che poi lì pongo là tutto inizia con Mario Musello con i showman esatto è ancora e i showman noi da ragazzi andavamo sempre a vederli quando venivano alle feste anche a Cava a Salerno o andavamo a Napoli ma poi vabbè gli ha dedicato nera metà poi a Mario Musello esatto bene 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 è un capitolo bellissimo comunque beh è una cosa ma credo che nessuno come lui nella nella musica camuffata cioè i mezzi moderni in in Italia come lui è l'unico che veramente può sta all'Olimpo dalla musica mondiale comunque va bene così senti e poi ho visto le tue collaborazioni come nascono in collaborazione con Edoardo e con Roberto De Simone? Allora con Edoardo io andai a seguire il i due anni che lì fece al teatro Ateneo dove lavorò sulla sceneggiatura sulla messa in scene sulla scrittura e io non essendo universitario ma all'epoca si poteva entrare eh frequentai tutto il primo anno andai diciamo da uditore da osservatore come ragazzo per imparare per rubare per avere a che fare con tantissimi grandi che partecipavano a quelle poi siamo rimasti molto in contatto con tanti amici con un po di loro che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa che era Sergio Solli grandissimo attore grande ci siamo frequentati per molto tempo e ci siamo trovati poi grazie a Gigi Magni a lavorare in un film insieme dove io facevo il cantante di corte e lui faceva il pulcinello che era Orre di Gigi Magni con Giancarlo Gini e poi hanno fatto pure il film no? Esattamente ma tu hai fatto da Stilman o un re? Io ho fatto sì io ho fatto sì una parte delle musiche firmate insieme a Nicola Piovani e ho cantato la parte che faceva era il cantante di corte e quindi è un bellissimo lavoro che è una grande esperienza che Gigi si prende. E allora non metti la maschera da pulcinello e fammi sentire contando il corte. Mi viene in mente una cosa che vi posso dire a me pende davanti un certo coso e non so dire se sia di carne o d'osso dall'una delle parti è un po' peloso del resto non ha poi un pelo addosso gli stan due palle appresso e queste anche le son ricoperte di peloso. Talvolta emana un liquido schiumoso che per lo più bianco viscito e grasso talorsi in furia e quando è coleroso tutto in punta si fa pervido e rosso e di forma lunghetta e liscio e tondo e l'uomo senza di lui non nasce al mondo. Il naso. Sì. Però ma ora mi fanno pezzo con Pulcinello però una pulitana in purezza, lingua toia, non in italiana. Questo è una Fiorilla, Silvio Fiorillo, Michelangelo Fraganzani, erano i grandi capoani Pulcinello del... Eh sì, noi lo sai, te l'ho detto prima, noi con il professor Scafoglio abbiamo, che ha creato il comitato proprio Pulcinello patrimonio UNESCO che vuole far diventare Pulcinello patrimonio dell'UNESCO e noi siamo nel direttivo, stiamo girando tutto il regno per ritrovare tutte le vecchie maschere, pure quelle nelle campagne, nelle montagne più sperdute e il Pulcinello è presente ovunque. Quindi noi speriamo di riuscirci, poi ti mando qualche cosa che abbiamo fatto. Quindi adesso un break, una recitazione Pulcinello è napolitana e stritta oppure in nocerino, come puoi ratterriamo? Allora, te lo faccio, guarda, proprio con il tamburello. Eccolo qua. Ed è... Eccolo qua. Eccolo qua. e questo era un po il gioco tamburo e voce delle Moresche di fine Cinquecento dove il linguaggio si mischiava con il non-sense dove poi il grande Dario Po ha attinto il gramlo che ha creato nel suo teatro quindi non mi sbaglio che quando penso a te penso a c'era una volta grazie, mi fa un grande onore questa cosa e mi ricordo quando ho frequentato per tanti anni il grande Dario Po fino a pochi mesi prima che se ne andasse e ogni volta che andavamo a trovarlo insieme ad altri amici lui mi diceva senti, fammi un po il grillo su quel tamburello con quella ma... e mi metteva la maschera e voleva la Moresca era divertente molto, molto... eh sì, da Moresche e Villanelle dove tutto nasce, no? eh sì e dove nasce? da te da noi tra l'altro c'è un bellissimo libro che vorrei citare che è un libro che si chiama Il chiaro e l'oscuro di Gianfranco Salvatore che è un grande esperto di musica africana ma anche di musica popolare insegna all'università e al conservatore di Vecce Gianfranco è una persona fantastica e questo libro parla delle Moresche e dell'importanza della commissione musicale a Napoli dal 1500 in poi e pensare che a Napoli in quel periodo molti napoletani conoscevano una lingua africana sconosciuta a molti africani e a tantissimi del regno che era il canuri e che era la lingua degli schiavi da cui poi si pensa derivi la parlesia napoletana ed è un libro che io consiglio a tutti perché fa parte di una trilogia di libri il primo è uscito da poco e ci ha messo otto anni per farlo adesso ne è uscita fra un anno e un altro dove c'è tutta la prima parte sono circa 500 pagine tutta la prima parte è storica e narra di come una certa musica napoletana ha influenza africana e di come una certa musica africana diventa poi influenzata dalla nostra musica del Mediterraneo quindi gli incontri tra la musica in tempo pari e la musica in tempo dispari quindi le morese Napoli sta col centro del Mediterraneo che la colloca come la capitale del Mediterraneo esatto è la porta tra l'Oriente e l'Occidente io infatti ma pure no considero il napoletano la lingua ufficiale del Mediterraneo la lingua ufficiale del Mediterraneo eh sì è una cosa è una lingua fantastica molto unica veramente unica ci si può fare tutto infatti si avvicina alle lingue più strane no ma ti ricordi di Shambo che si misero a cantare Beatles non è più bello del Beatles bellissimo quei dischi i due dischi che hanno fatto erano fantastici She Loves You She Loves You fantastiche ho sentito sai adesso ho sentito ho sentito tradotta ha fatto un lavoro Gianni Lamagna ma cosa fa andare a fare un capolavoro noi proprio cioè anche Gianni abbiamo fatto nel 2018 un lavoro che è stato riscrivere in napoletano Creusa De Mati di Andrè Dori Ghezzi insieme ad altri compagni di viaggio avevano affidato le sette canzoni di Creusa De Mati a sette artisti napoletani da Teresa De Sio a Gragnaniello dalla compagnia di Canto Colare c'eravamo pure noi io con il mio gruppo con i Tampuli del Vesuglio a cui è toccata Arummenega che è un pezzo che c'è il video perché poi il disco non è stato ancora pubblicato non so per quale controversia però ti manderò il link del video perché mi farebbe molto piacere abbiamo fatto al Maschiangioino immagino vabbè ma sai alla fine tutti i grandi artisti vabbè uno dei pezzi più più belli forse il più bello di di Andrè proprio quando quella di Cruezza De Mato che parla di Cuto del ah Don Rafè Don Rafè e onestamente alla fine tutti quanti artisti tutto a Napoli volvano venire eh sì sì pensa che Mina Mina faceva lezioni di dizione di napoletano sì 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 e ha fatto due dischi in napoletano bellissimo bellissimo adesso un altro cantautore che si è innamorato della nostra lingua è Eugenio Finardi eh vabbè è Francesco De Gregori puro vabbè poi io avevo un grande che la vera l'unica capitale diventa capitale in Italia è Napoli pensa tu io anni fa ho avuto l'onore proprio di condividere anni di amicizie con un grande autore cantautore che era Francesco Di Giacomo del Banco del Nuovo Soccorso che insieme a Rodolfo Maltese poi abbiamo con cui insieme a Maltese abbiamo partecipato a vari concerti a vari dischi con con gli Indaco e ogni volta che noi avevamo prove o ci vedevamo per i compleanni la prima cosa che loro dicevano ci darei canzoni napoletane mettiamoci qua cantam ed erano innamorati innamorati ma tu lo sai la storia che è vera anche se molti non accettano Miles Davis e Nino Tangelo lo sai ah sì 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 come no noi qua abbiamo conosciuto Carl Porter che veniva spesso a suonare la fine jazz un fratello e lui raccontava che quando stavano a Cina con Miles Davis cazzi mai chissi da un certo punto la fine serata si metteva pianoforte e si metteva a cantare canzoni di Nino Nando eh sì lui era folgorato dalle canzoni il problema sai qual è caro Nando è che un popolo si riconosce da come mangia da come parla una napolitana io sono napolitano tu sei napolitano io sono napolitano sì sì esattamente siamo napolitani che abitanti del regno erano napolitani abitanti della città erano napoletani nessuno mangia come mangiamo noi e noi quando parliamo cantammo esattamente e la nostra espressione è attraverso la vocalità infatti ogni tanto che ho degli amici che sono assolutamente eh anti musicali per eccellenza e sono napoletane eppure dicono noi alziamo le mani siamo i i pochi e abbiamo due cose non ci piace un caffè e non sappiamo cantare però ascoltiamo e adoriamo questa musica nando devo chiedere un attimo di roberto di simone ce lo vuoi anticipare con un pezzo di chitarra battente come no assolutamente la prendo qui dietro sperando che sia accordata ma non fa niente mi ce ne importo eccola qua la vecchia dei bonus del 78 eh esatto un pezzo di chitarra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, verità, 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 verità. Non so perché, ma il suono della chitarra battente mi emoziona sempre. E tu poi lo suoni in mattina. Prende, noi c'erano dei vecchi suonatori, c'erano che si va in dall'anima. E il nostro blues, il nostro soul, è una cosa... Il blues and jazz nasce dalla musica popolare. Esattamente. Sono napoletani e siciliani in America e lo fusero con i canti afro-americani e nasce jazz e blues. D'altronde il primo a comporre un disco in jazz è Nick La Rock, il siciliano. Come no, come no. La chitarra battente è identità, come il tamburo è identità, perché c'è differenza tra identità e tradizione. L'identità è voce e tamburo, è identità. Quando cominci a sentirmi che c'è la fisa e Monica passiamo alla tradizione. Come l'arbonetto passiamo alla tradizione. L'identità si nutre la tradizione. Se non ci fosse la tradizione però l'identità diventerebbe cenere. Quindi sta nel tempio dell'arte. Sono tutti insieme. Sono sorelli. L'uno ha bisogno dell'altro. Infatti noi a proposito di identità, da noi non si dice a chi sei figlio, ma a chi appartiene. A chi appartiene, pure noi. Esattamente. Allora, mo' derica una frase che forse iniziano. Quanta volta quando il ricatore, mamma, che si affamava, mi subordate, diceva gli esci dentro. Sempre. Eh, ma vedi lo simbolo di questa frase. Gli esci dentro. Esci dentro, ma con me. E perché? Perché gli esci, sicuramente stai affamazzato, stai in una situazione pericolosa. Esci da quella situazione e vieni dentro. Sì, sì. Cioè, lì e vedi là. Gli esci dentro. E' un simbolo, no? Sì, sì, sì. Capito? Come il silenzio assoltante. Gli esci dentro. Perché tu stavi messo in un burdello. Era pericolo per te. Dicevi, gli esci da quella situazione e vieni dentro. Sì, sì. Infatti. Come sempre stai soggetto. Quando stai soggetto. Esatto. Stai soggetto. È bellissimo. Sì, sì. Tu ne stai soggetto a kill. O a kill. E come mia nonna non diceva mai. Trasarinda. Esciarinda. Ecco, ti ho detto prima, no? Esciarinda. Tu dici. Trasarinda. Esciarinda. E io ti ho detto. Esciarinda. Perché stavi in una situazione brutta. Dovevi uscire ma entrare a casa. Bellissimo. Dalla mia parte. Diciamo sempre che la mamma sta a soggetto solo alla maronna e basta. Esattamente. E sono d'accordissimo su questo. E dimmi una cosa. E con Roberto Di Simone che cosa? Guarda, con Roberto Di Simone in realtà io l'ho conosciuto, l'ho frequentato. Non ho mai avuto l'occasione di lavorarci. Ma poi c'è un episodio molto particolare. Tanti anni fa eravamo proprio con Giovanni Mauriello, Pino De Vittorio, La Magna ed eravamo, se non sbaglio, al teatro del Partenope. E poi ci rincontrammo a Roma all'Istituzione Università dei Concerti. E io gli feci sentire dei brani di un mio disco. E gli dissi, mi piacerebbe poi poterlo, poter fare qualcosa insieme a voi per questa cosa. Poi Dante mi disse, dammi del tuo che bella del voi. Già sono viecchio, me lo faccio viecchio. Sapeva che poi conoscevo bene Concetta Barra, perché ho avuto l'onore di lavorare con lui e con Peppe per un sacco di tempo. E mi disse, ma tu perché? Ma tu perché vuoi lavorare? Tieni l'avviatoio, fai quella strada. Allora quando sono uscito, parlavo proprio con Gianni. E gli dice, ma Gianni, ma spunite, ma no, no, fai quello che fa perché stai facendo buono. E l'ho capito dopo. Poi ogni volta che sono andato a trovarlo, ogni volta che ci siamo visti, anche quando stava meglio rispetto agli ultimi anni, è sempre stato di una grande, veramente, apertura. E' un monumento, vabbè, stiamo parlando, forse è il più grosso compositore del Novecento. No, ma lì abbiamo, lui, è veramente un folle in senso buono. Perché... Guarda, vabbè, sai, è l'oggio della follia di Niasma Tarotto, dammi i folli. Esatto, ha scritto delle cose bellissime, bellissime. Ma la carta Cenerendolo è qualcosa di mostruoso. E poi ebbi la fortuna di prendere l'ultimo biglietto dai piccionari al settimo piano, al sesto piano, al Teatro San Carlo, quando lui compose la sinfonia per Maradona. Ah, quella là, sì, sì. E io ho visto... L'ultimo biglietto per sbaglio. Ascoltai soprattutto, perché se in coppa a tutta, se sotto era una cosa, però fu un'emozione incredibile, che lui fece paragono a Maradona a Paganini, no? Sì, 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 sì. E quindi lui fece in due aree, in due pezzi, in due tempi, non so come si dice, uno dedicato a Paganini e l'altro a Maradona. Sì, 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 in due anni. Adesso dobbiamo parlare... Il tempo, vedi, come passa, vola? Eh, sì, sì, ora dobbiamo volare, sta finendo la trasmissione. I Damburi del Vesuvio, la tua grande esperienza lì, come nasce quel progetto? Come nasce quella cosa? Allora, il progetto dei Damburi del Vesuvio nasce proprio dall'identità e anche dall'appartenenza. Perché? Perché sempre andando in giro, in tutta l'area vesuviana, ma anche in molte parti del sud, come ora anche nel centro e nel nord, si incontravano nelle feste popolari, non solo contadini, paesani, gente di quel luogo, ma si incontravano persone che erano emigrate e venivano nella nostra terra, venivano a lavorare, pur essendo sfruttati a volte. Però che cosa facevano? Si innamoravano del popolo e della festa e alla festa partecipavano. Con un altro tipo di rito, che era il loro, ma era comunque un omaggio. Io ricorderò sempre, tantissimi anni fa, forse sarà stato il 92-93, alla Madonna dell'Arco, un gruppo con un tosello e uno stendardo dedicato alla Madonna dell'Arco di indiani, indù, che cantavano e pregavano nella loro lingua, ma con la forma e la scala napoletana, mischiando tutte e due le cose. E lì ho capito un sacco di cose riguardo all'identità, riguardo anche alla fede, all'approcciarsi alla fede. La fede è una cosa che uno ha dentro, è personale, è talmente profonda e insite in noi, che se tu ne hai una, che è diversa dalla mia, è uguale. Beh, oddio, andiamo su un discorso un po' particolare. Eh, lo so, lo so, però io parlo di... Quando mi riguarda... Io sono cattolico apostolico romano, rispetto tutte le risposte, rispetto tutte le filosofie. Io pure sono... Però la mia non è... Quando staremo insieme ne parleremo, però la mia non è la migliore tra le religioni, per me è la religione, perché Dio si è fatto uomo e si è fatto carne. È il verbo che si fa uomo, questo ce l'ha... Quindi, però... Io sono credente come te e ho camminato chilometri... Eh, lo so, lo so, lo so. Però aprirsi a tutto è importante, però non dobbiamo dimenticare che Gesù Cristo mandò gli apostoli a evangelizzare il mondo. E quindi a convertire. Però c'è da dire questo, che quello che tu mi dicevi può accadere solo a Napoli, dove trovi gli indiani che... Perché Napoli, siccome è universale, e addirittura Scafoglio la definisce la prima città post-moderna, un indiano, un hindu, un cinese, un musulmano... Si sente a casa sua. Riesce a prendere e a fondersi. Infatti da noi, caro Nando, noi non sappiamo che cosa significa la parola inclusione o tolleranza, che sono due parole di una violenza inaudita. Inclusione e tolleranza è l'anticamera della violenza. Noi siamo figli dell'accoglienza e della convivenza. Bravo. Sono d'accordissimo con te, perché io sono... Per esempio, non adopero mai e non mi piace, non sopporto la parola tollerare. Toleranza e inclusione io le ho cancellate, come il sud e il meridione che sono l'ombrosiano. Noi accogliamo e conviviamo. È stato sempre così. È stato sempre così. Allora il discorso segue a lei. La magna Grecia, no? Noi noi siamo da sempre, quindi non... Ma poi il nostro regno, tu lo sai, scappavano dai musulmani, scappavano dagli ottomani, quindi venivano dai Balcani, venivano dall'Albania, venivano dall'Africa, venivano dalla Spagna. Tutto qua venivano e ci rimanevano. Infatti solo noi abbiamo ancora dei posti dove si parla il croato, il serbo, addirittura c'erano dei collegi greco-albanesi giù in Calabria. Assolutamente. Perché noi accogliamo, accogliamo. Infatti poi Ferdinando II fece la prima legge, promulgò la prima legge sull'immigrazione, che era semplicissima. Tu stai su cinque anni che stai qua, fatiche qua, paghi le tasse qua e diventi ecdito dalla cittadinanza e diventi suddito del nostro regno ed era tutti gli effetti uno come gli altri. Senza troppi fronzi, sempre senza troppe chiacchiere. Sì, sì, sì. Capito? La convivenza e l'accoglienza sono le cose fondamentali. Ma io quando sento la parola tolleranza mi è arrivato in bestia. In bestia. No, no, no. Quanti anni è durato i tamburi del Vesuvio? No, quanti anni? È ancora dura, grazie a Dio. Quest'anno siamo quasi siamo ai trent'anni quasi. Trent'anni è una botta? Perché nel 93 è nato il progetto grazie a un festival Roma-Europa che vennero a vedere un laboratorio di molti percussioni che io facevo alla scuola Timba che è stata la prima scuola di percussioni d'Italia dove si suonavano i tamburi di tutto il mondo dove c'era l'Africa dove c'era Cuba dove c'era il Basile e dove io ho portato la Tamurro l'Italia l'Italia del centro-sud e lì ci siamo accorti che tante cose erano simili del linguaggio le forme di canti di lavoro le forme di canti di invocazione le forme di festa quindi l'incontro era continuo allora io proposi e c'era anche Carl all'epoca e proposi di fare un laboratorio dove tutti quanti portavano la propria identità e lavoravamo di volta in volta sull'identità di ognuno al servizio dell'altro con due forme le più antiche la voce e il tamburo basta che sono le prime forme che l'uomo ha quando nasce ma tu sai che il cuore è il pianto il vagito la musica è un codice un linguaggio se tu vai in Cina e ti metti a parlare non capisci niente ma se cominci a sonare cominci a comunicare eh sì sì cambia tutto ma noi poi abbiamo un uomo colcando su comunichi esattamente e questo laboratorio è durato due anni dal 93 al 95 e nel 95 Roma Europa Roma Europa Festival ci ospitò e ci diede la possibilità di aprire proprio di inaugurare il festival con altri tre grandi gruppi che venivano da tre parti diverse del mondo cioè con un gruppo che arrivava dalla Mongolia un gruppo che arrivava dall'Africa e c'eravamo noi per l'Italia e i tenores di Bitti per le isole e fu una cosa bellissima immagino ma per poi 40 persone veramente fa capire che la globalizzazione neoliberista di oggi è veramente puramente spicolativa e puramente e puramente tirannica invece la vera globalizzazione è quella dove i protagonisti sono stati gli uomini dove gli scambi avvenivano e gli scambi venivano sedimentati anche se apparentemente venivano fatti lentamente si sedimentavano si metabolizzavano e quindi è importante cominciamo a questo festival venne un altro grande c'è un grande napoletano campanella uno campanella venne lui un grande pianista e ci invitò alla stagione universitaria dei concerti della sapienza dove per la prima volta in quell'aula magna ci furono 40 percussionisti di tutto il mondo ed era diciamo il febbraio del 94 comunque voi rappresentavate Napoli la napoletanità l'Italia ormai il prodotto più esportato al mondo italiano è quello napoletano in tutti i settori ma lo vediamo lo vediamo ovunque andiamo io sono tu hai visto i nostri simboli quindi io sono risorgente sono un sanfedista quindi a proposito quando il sanfedista con il tamburo lo fa un attimo lo fa sentire ah con il tamburo lo vuoi sentire eh certo è a disposizione mi sposto un attimo con la battente e ti prendo proprio la tamburra eccola a disposizione a disposizione come è attuale questo canno quello è un trattato di filosofia sembra attualissimo loro capirono tutto i sanfedisti i lazari capirono tutto dove stava ero scondo di civiltà nel 99 esattamente e se quando leggi quel testo dici ma questo è il mondo di oggi questo è il mondo di oggi capirono tutte cose sono stati dei profeti purtroppo anche se il canto è un canto istigatorio molti lo cantano per festa ma dietro c'era veramente una rivoluzione una tragedia una contro rivoluzione una insorgenza un insorgenza più che un genio era un canto di rispettione di lotta loro capiretta tutto cosa libertà tu hai roba a me e io hai roba a te esatto perché è arrivata la borghesia e pensava solo a mangiare e a rubare i francesi sono arrivati hanno buone carusate e voilà e voilà capo e cingura la libertà oppure giacobini della pane e vino esattamente dimmi tu se non è attuale quel canto infatti è il mio canto è il mio canto eh sì sì ma è molto bello lo abbiamo rinnovato e rielaborato all'interno di questo progetto che è dedicato ai canti delle contro rivoluzioni e a Bella Ciao questo lavoro che abbiamo fatto con Riccardo Tesi Elena Ledda Maurizio Geri secondo me se ti dico il mio pensiero su Bella Ciao mi togli il saluto è meglio che mi stiamo no no è comunque anche quello è un canto che è di libertà cioè è stato in realtà nasce come un canto di lavoro un bel acciato sì vabbè poi te lo dico in separata sede sennò qua mi scuro nel canale sì va bene ne parliamo fuori in privato sì sì no ma tu conosci quel canto di Fra Diavolo di Tramonti ne ho sentito parlare da Isidoro no però non l'ho mai sentito io ti mando il video è bellissimo è una tamurriata che io costringo a suonarla ogni volta e lui adesso l'ha capito la cantano sempre perché Nando è di una bellezza unica io perché sono io vengo Fra Diavolo e Alta Tare di Lavoro è il numero uno in assoluto ma in modo di mando il video lo sentirai rimanerai senza parola ho avuto anche e credo che forse lo adotterai pure è un canto antico quindi tradizionale identitario tutto il testo è particolare bellissimo sono molto curioso che è che la coppa a testa la chelata era un coppa a testa a Luganda il Tramonti è il tuo attico è il tuo attico eh sì senti di quanta gente è composta adesso il tamburari del Vesuvio tamburi del Vesuvio perché i tamburari sono quelli di Simone no i tamburi del Vesuvio scusami no 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 figurati non c'è problema no ma stavo parlando in lingua non in italiano ecco perché perché in realtà tamburi in quel caso non è solo tamburre ma ci sono c'è c'è Valerio Perla che è un grande esperto della musica afro-cubana poi c'è Umberto Vidiello che è un grande esperto della musica afro-brasiliana poi c'è Francesco Fasanaro che è un carissimo amico di Salerno che è un grande esperto della musica magrebina ogni tanto c'è Nureddin un cantante del Marocco che suona anche gli strumenti come il Gembrin o il Bendir marocchino comunque Gabriella Aiello alla voce Pietro Pisano il nostro amico Zampognaro Bassista che viene da da Baronissi ma in realtà è di Raito lui e poi c'è Giovanni Locascio un altro percursionista batterista Carlo Olaf Cosso il nostro violinista che arriva dai Balcani ma è romanissimo 12 persone siamo poi ti mando i video che noi siamo portati i Sambugnara e i ballatrici l'altra parte di lavoro di Vila Latina la notte della Tammora ti mando i video ah che bello che bello ci stanno da noi i Sambugnari fantastici poi ci sta Carlo Carlo Faiello che ha fatto suonare con lui a Angelo Fusco di Vila Latina a Zampogna la Tammoriata bellissimo bellissimo e poi ti mando pure il test del nostro spettacolo che se ti piace se ti va te lo vedi abbiamo scritto noi è particolare voci, canti e soni dei brigandi intera di lavoro scritti in lingua laborina poi te lo ti mando se hai pazienza di vederlo identitario puro senti ormai ci dobbiamo salutare dovevamo parlare di tutt'altro alla fine abbiamo parlato di cose ancora più belle del meraviglioso raccontati la tua infanzia l'improvvisazione è proprio questa è una chiacchierata è una chiacchierata volevo solo sapere che adesso di solito io faccio chiudere con un video di un pezzo ma a questo punto il pezzo me lo fai tu e mi devi fare un pezzo con la tua murra muta che io la cannero di seppia che mi fa impazzire e ci salutiamo qua perfetto i prossimi concerti che avete dove sono? il prossimo concerto è a marzo perché stiamo preparando una cosa per il 19 marzo dove si riuniscono i tamburi del Vesuvio al forte pre-nestino di Roma a chiudere una rassegna che si chiama Enotica che vedrà dal rock alla tradizione popolare in chiusura e avremo questo concerto dove dalle Calabrie a Napoli arrivano tutti i musicisti e li portiamo a una famosa strada delle Calabrie che iniziava la Maddalena iniziamo esatto e allora vi dedico questa molto molto particolare bella qui sta la storia e ci vincere l'ubricante poi in mezzo sta foresta l'ubricante a e Dicci Gattove, Cuyume che sa via la viverà, Posso una casa via la guadìà. E' l'ubrigante, Cabecavale, D'os manu murugunna ga' paisà, Oiga Mariano grande conosciero, E' ravvinuto i vinti la rinazia, E' all'unità domando i cavale, E chiurresti con noi così n'impar, Poigi fu dirichiste verità, Poigi fu dirichiste libertà, è bellissimo chi brigante è questo questo è ciccio brigante delle calabrie dell'astromonte una antica canzone che fu ripresa proprio nel 1981 da francesco manente con cui incidemmo il primo disco dedicato alla storia della musica tradizionale calabrese rivista in una forma un po più moderna ma che raccontava storie di tutti quelli che potessi potrebbero si potevano chiamare disadattati ma in realtà erano persone che avevano in testa proprio la libertà eh sì eh diciamo che il discorso di identità e tradizione l'avete riadattata in modo tradizionale abbandonata l'identità esattamente l'abbiamo l'abbiamo riportata all'origine no perché se non ci fosse io dico sempre che la tradizione è il è innovazione dove il dove l'uomo non è spettatore ma protagonista dei cambiamenti ma infatti tradire vuol dire guardare avanti e non è spettatore ma è protagonista nando eh che ti devo dire stare altre due ore ma ci dobbiamo lasciare e ci vediamo spero probabilmente anche da anche da vicino per chiacchierare e parlare di tante altre belle cose quando tu c'hai le locandine manda male perché io noi abbiamo mille lettori al giorno qualsiasi cosa tienici come punto di riferimento adesso siamo in contatto e ne sono felice veramente mentre tu cantavi ti ho mandato intanto su telegram col canto di fra diavolo ah che bello subito lo vado a accappare subito e poi te lo mando fatto in maniera diversa perché quello che prima perché noi abbiamo un canale a youtube che c'ha quasi 6.000 video 9.000 articoli su vlog insomma non è una cosa da poco no eh mandami tutti perché eh nella vita si scoprono sempre tante belle cose ed è per questo che la vita è sempre è quella la tua forza come quelli di la vostra generazione la curiosità la cultura la curiosità vuol dire che tu non assorbi cultura come da buon napoletano la crei la metti a disposizione perché Napoli è l'ultimo posto al mondo dove ancora si crea cultura eh sì non l'assorbe ma mia nonna mia nonna diceva sempre tu si curioso e non smettere mai di essere curioso eh questo sì perché negli altri posti ormai è stato scritto e fatto tutto oggi bisogna solo Napoli ancora crea in continuazione e questo grazie a voi eh ti ringrazio tantissimo Claudio veramente io invece la prima volta che ti ho sempre sentito nominare ho avuto l'onore e il piacere di conoscerti questa sera in maniera vedi certe volte il mondo virtuale è un mondo da rispettare perché se si utilizza come mezzo come fine ti dà molte risorse e io ti ringrazio veramente è stato un piacere un onore conoscere una persona un artista come te grazie verrà trovarti per stare un po insieme e parlare se tu ti domani ma figurati sei quando vuoi sei il benvenuto chiami Zambugnari chiami Baradice ti faccio pure ti mando qualcosa ti abbraccio forte grazie grazie